benvenuti a mappamundi oggi parliamo di enrico mattei del miracolo economico italiano quello degli anni 50 e anni 60 e anche appunto della situazione attuale dell'economia italiana e nella stessa diciamo quadrante geopolitico di cui si occupò appunto mattei e ospite di oggi alessandro resu ciao alessandro alfonso ma qui sei come collaboratore di limes perché oltre ad aver scritto tra i primi un articolo su mario draghi ne abbiamo parlato alla puntata di mappa mundi speciale che abbiamo fatto sabato sul governo draghi e tu ci hai raccontato in un video appunto il contenuto di quell'articolo ma una delle tue grandi passioni no possiamo dire che una delle due grandi passioni oltre che oggetto di studio appunto enrico mattei certo e allora cominciamo cominciamo vuol dire che enrico mattei è uno dei personaggi che ha fatto la storia d'italia in un periodo cruciale della storia d'italia è uno dei protagonisti appunto di quel miracolo economico italiano che consentì all'italia uscita dalla guerra sconfitta e semi distrutta di diventare una delle potenze economiche mondiali in questa trasmissione cercheremo di capire come è stato possibile questa cosa e comincerei subito da un primo spunto tuo il ritratto della persona chi era mattei in poche parole perché poi dopo svolgeremo nel corso della puntata tutti gli aspetti beh è stato un uomo che in una vita piuttosto breve dal 1906 al 1962 ha impresso un ritmo decisivo alla storia d'italia del tempo in particolare alla nostra nascente repubblica questi 15 anni sono stati impetuosi anche grazie all'azione di mattei al suo ruolo politico al suo ruolo di manager al suo ruolo geopolitico al suo ruolo sulla scienza e forse e soprattutto grazie al suo coraggio alla sua audacia alla sua ambizione era diciamo ossessionato dall'amore e dall'ambizione per il suo paese per l'italia e allora cominciamo un po che abbiamo visto già ma rimostrerei una sua foto qua siamo questa foto è tratta da una tribuna politica del 1960 e allora tra le due guerre nasce nel 1906 lui nasce nelle marche nelle marche profondamente marchigiano amante del suo territorio una regione molto sottovalutata in italia per tante ragioni ma sarebbe un altro questa sarebbe un'altra un'altra puntata quindi nasce nel 1906 a scuola insomma non è che andasse benissimo viene da una famiglia piuttosto semplice lavora come garzone di bottega lavorare operaio a un'industria che una fondamentale che è un certo punto si sposta dalle marche era nato ad acqualagna ma poi in mattelica è la sua patria per eccellenza si sposta a milano quindi partecipa a questo centro industriale che è la milano del tempo fa l'imprenditore lavora nella chimica è un fornitore di pirelli per un certo periodo e ha anche dei dei rapporti in un contesto europeo in particolare con la germania quindi questa prima vita di mattel il momento cruciale la guerra non momento cruciale 43 lui diventa partigiano partigiano bianco quindi cattolico e riesce anche come dire ad avere un ruolo di primo piano e entrare in contatto diretto con l'ongo no che invece diciamo poi avrà un ruolo fondamentale nel partito comunista e che poi questo rapporto sarà anche importante no per quello che succederà dopo e lui quindi c'è il periodo della guerra da partigiano e direi di insomma sì ma te combatte nella guerra e soprattutto mette a frutto le sue capacità organizzative all'interno della guerra c'è l'immagine poi del 25 aprile in cui sfila assieme ad altri capi partigiani ripeto sempre con un orgoglio molto forte da parte sua sulla sua parte dei partigiani appunto i partigiani bianchi è animatore dell'associazione nazionale partigiani cristiani quindi c'è questo collaborazione ma anche conflitto con i comunisti che caratterizzerà poi la sua storia perché mattei è profondamente cattolico ha una grande fede cattolica e diventa una delle persone che animano i primi anni della democrazia cristiana nella repubblica quindi tra milano e tra il contesto del cln e della nascente repubblica cominciano i suoi rapporti più rilevanti quello con ezio vanoni sicuramente il più importante in assoluto e quello con de gasperi però il momento diciamo cruciale che lui alla fine della guerra gli ha dato l'incarico di liquidare la gip no la società che si occupa di petrolo in italia nella pianura badana c'erano dei piccoli pozzi di azienda generale italiana petrolica era che era nota per l'acronimo come azienda gerarchi in pensione e quindi era popolata diciamo di un capitale umano che non era ritenuto di particolare valore doveva chiuderla l'ordine ricevuto liquidarla lui invece che insomma regole non ci sapeva tanto stare probabilmente ma probabilmente aveva già alla vista lunga ovviamente come il grande uomo che poi si dimostrerà lui non solo non la liquida ma la rilancia e crea quella che ancora oggi è l'eni cioè una non solo una grande azienda italiana ma una azienda che ci invita a livello internazionale no la germania non ha un equivalente no la nostra eni noi non produttori poi di petrolio siamo riusciti a creare una grande azienda nel campo petrolifero e dell'energia senza avere le risorse sì io direi che il merito è suo e il merito è del suo metodo particolare che proprio in quei primi anni dell'agip riusciamo a vedere mattei appunto arriva a questo incarico con una identità politica piuttosto chiara anche un'ideologia in cui si riconosceva immaginiamo che giunge in questo contesto che pullulava di fascisti di ex fascisti c'è una caratteristica che avrà per tutta la sua carriera cioè saper lavorare con persone con ideologie diverse lui ha messo insieme su questo ci sono diverse testimonianze tutte concordi persone di ideologie diverse appunto dai fascisti ai comunisti perché aveva questa idea che credo e qui c'è un aspetto geopolitico che riguarda anche tante nostre riflessioni di limes aveva un'idea sulla fibra antropologica degli italiani lui pensava io devo rifare gli italiani devo portarli tutti a bordo per una idea di italia che superi il suo complesso di inferiorità che superi la sconfitta nella seconda nella seconda guerra mondiale e per questo devo chiamare nel mio progetto i migliori tutti in ogni caso quindi lui non è che arriva in questi posti per fare un repulisti e mandare via le persone che non avevano la sua ideologia no le diciamo le trascina all'interno di questo progetto progetto che poi è anche fortunato perché si interseca con la grande influenza politica che mattei riesce ad esercitare in quegli anni appunto guarda questa è la foto tu ci davi prima vanoni qui abbiamo mattei a sinistra con vanoni a destra si vanoni diciamo una persona dimenticata ma è stato uno dei grandi costruttori della nostra repubblica docente di scienze delle finanze ha costruito parti del sistema finanziario e fiscale italiano scomparso prematuramente nel 1956 davvero in termini drammatici perché muore dopo un suo intervento in senato quindi mente economica finissima della nascente repubblica e della democrazia cristiana diversissimo da mattei come appunto mattei coraggioso impetuoso lui un mite uomo della valtellina di morbegno peraltro è uno di quegli uomini del nord di morbegno in particolare come lo stesso pasquale saraceno che hanno fatto di più in assoluto nella storia d'italia per il sud anche per lo sviluppo meridionale quindi vanoni è un grandissimo alleato di mattei e la costituzione dell'ente nazionale idrocarburi nel 1953 non sarebbe stata senz'altro possibile senza l'apporto diretto di vanoni e dello stesso de gasperi con cui c'è un rapporto forte allora mattei è anche deputato in una legislatura e qui vediamo proprio la copertina ce l'hai data tu fa parte della tua biblioteca per se è nella mia collezione personale è il problema politico di idrocarburi italiani con il biglietto da visita di enrico mattei in quel momento deputato quindi chiudiamo diciamo un attimo la parentesi sul mattei politico dicendo che lui con quella legge diventa quella legge diciamo è un punto chiave ci saranno tantissime polemiche su questa legge e lui qui però riesce a portare la maggioranza diciamo del parlamento ad approvare la sua idea di eni di quella che poi sarà l'eni e lui come detto tu non parla con tutti ma mai con mediazioni al ribasso no sempre con questa sua idea che lo porta avanti e anche condizionando il quadro politico soprattutto dopo lui sarà accusato no anche di poter condizionare la politica quando ormai lui sarà un potere economico importante quindi questo ovviamente non lo nascondiamo lui è anche uomo di potere no è uomo di potere che vuole portare avanti la propria idea e usa sbagliati mezzi a disposizione che ha per raggiungere l'obiettivo volevo volevo aggiungere mattei non si è mai arricchito personalmente in vita sua mattei ovviamente non è mai stato condannato per corruzione mattei e influenzava l'opinione pubblica attraverso i giornali sicuramente attraverso il giorno la sua vicinanza con delle correnti della democrazia cristiana questo è in dubbio poi comunque tendeva davvero a parlare con tutti anche politicamente con i socialisti e ci sono anche delle bellissime testimonianze dei comunisti su mattei appunto mattei è veramente poi ha fatto anche accordi con l'unione sovietica ne parleremo però mattei sicuramente rimane un cattolico e un democristiano per tutto il suo percorso però a questa volontà di attuare questo programma di rovesciamento del complesso di inferiorità nazionale attraverso la grande organizzazione industriale e comunque una piccola parentesi anche in queste cose è innovativo e all'avanguardia perché anche quando decide di creare un giornale appunto da usare come strumento di potere in italia crea il giorno che diventa uno dei giornali più avanzati all'avanguardia d'italia quindi in ogni cosa che fa poi vedremo è sempre è sempre avanti però allora chiudiamo per un attimo la parentesi politica quindi lui non liquida l'agi anzi riesce poi a convincere il parlamento da fare questa legge per creare l'eni con la sua idea di sviluppo di idroia buri e qua entriamo nel quadro geopolitico dell'epoca io vorrei mostrare subito questa bellissima carta dell'epoca della domenica del corriere dove appunto vediamo il teatro dei personaggi della grande guerra del petrolio no vediamo l'iran con in persia c'era lo shah ovviamente che faceva parte in quel momento del fronte occidentale con i pozzi di petrolio vicino al golfo persico l'irac nato appunto dopo la seconda guerra mondiale dalla decolonizzazione questo è un aspetto importante con i pozzi di petrolio soprattutto quelli a nord di kirkuk i più antichi no e appunto che sfociavano poi verso il mediterraneo attraverso la siria il libano la giordania e così via quindi il quadro dell'epoca esce usciamo dalla seconda guerra mondiale siamo nell'era del petrolio no i americani ovviamente sono all'avanguardia in questo loro da fine ottocento hanno cominciato a sfruttare i loro pozzi di petrolio standard oil nella seconda guerra mondiale la germania ad esempio al problema no addirittura loro fanno la benzina dal carbone sono costretti a fare cercano inutilmente hitler di conquistare le fonti diciamo petrolifere quindi già nella seconda guerra mondiale si capisce l'importanza del petrolio ma è dopo la seconda guerra mondiale che appunto entriamo nell'era del petrolio della benzina della motorizzazione di massa no quindi diciamo l'elemento chiave di quegli anni è appunto il petrolio e lui riesce a vedere questa cosa prima degli altri sì sostanzialmente lui vuole scuotere questo mercato del petrolio da un lato sul piano interno appunto come tu dici il petrolio è fondamentale per l'industrializzazione la motorizzazione di massa quindi è chiaro che in quella vicenda del miracolo italiano avrebbe giocato un ruolo dall'altra parte per l'approvvigionamento del petrolio e il sistema degli idrocarburi dell'epoca mattevole appunto scuotere il mercato ci sono degli degli attori consolidati degli incumbent è mattevole inserirsi in questo contesto e lo fa attraverso un'opzione ideologica che è quella della decolonizzazione quindi lui vede il trend della decolonizzazione e decide di sfruttarla attraverso dei rapporti bilaterali con i paesi che hanno conquistato l'indipendenza o stanno per conquistare l'indipendenza quindi questa è la strategia costruire una politica mediterranea e medio orientale che sia in grado di sfruttare le opportunità della decolonizzazione quindi dicendo alle classi dirigenti di quei paesi quello che voi state facendo è quello in cui io credo Mattei ha sempre questa dialettica dice noi siamo stati colonia noi come italiani siamo quelli a cui hanno detto siete un paese povero siete condannati a restare un paese povero io ho dimostrato che noi italiani non siamo quelli che suonano la chitarra e il mandolino cioè Mattei dice proprio queste parole siamo quelli che costruiscono la grande organizzazione industriale lo dovete fare anche voi lo faremo insieme io vi pagherò di più il petrolio rispetto a queste altre a queste altre società e entrate dentro questo nostro sistema nuovo mondo perché il mondo dell'epoca ricordiamo era dominato dalle sette sorelle erano cinque americane una britannica e un anglo-olandese nomi famosi no abbiamo mobiltexaco sharon e così via oggi poi c'è stato ovviamente sono praticamente sono due grandi agglomerati adesso americani più british petroleum che è rimasta svolge un ruolo fondamentale oggi oggi io aggiungerei possiamo anche parlare dopo che le per usare le stesse immagini di Mattei le sette sorelle o le sorelle rimaste sono un po dei gattini perché il trend dell'energia è completamente diverso rispetto a quello di un tempo qua bisogna spiegare però la tua citazione che non penso che tutti abbiano compreso perché c'è una famosa in appunto intervista la tribuna politica di Mattei del 1960 anzi sul canale youtube dell'eni trovate questi video anzi metteremo in descrizione il link perché sono veramente interessante e lui cita questa parabola del gattino lui è una persona molto diretta schietta che parla al popolo non parla non è un intellettuale che parla tra intellettuali e lui invitato alla tribuna politica a parlare della politica energetica racconta questa sua vicenda di quando lui cacciatore torna da una giornata di caccia i cani affamati stanno divorando il loro pasto un gattino si avvicina alla ciotola e uno dei cani lo spazza via e lo uccide con una zampata e lo porta via e lui usa questa parabola per indicare appunto che in quel momento il gattino era l'italia i cani erano queste sette sorelle e lui racconta poi no il primo incontro che c'è stato con uno dei capi della shell che riguardava la tunisia lui in tunisia riesce tra l'altro a fare quel metanodotto che poi porterà il gas algerino in italia e qua entriamo poi nel capitolo algerino però lui fa cita questo esempio e lui è sul primo incontro con uno dei capi della shell no e gli dice noi vorremmo fare questa raffineria in tunisia e il capo della shell gli dice no la facciamo noi perché voi non contate praticamente nulla lui abbandona questo incontro e gli dice vi pentirete di questa cosa sostanzialmente no e quindi diciamo la premessa è che lui entra in un sistema dominato dove non solo non viene invitato ma viene respinto e cacciato lui anche delle sconfitte iniziali però poi riesce come dici tu a capire il tempo no capire il tempo è cambiato le sette sorelle non possono più agire con una mentalità coloniale come prima della seconda guerra mondiale questi nuovi paesi sono indipendenti e lui offre il 50 50 no mentre gli altri offrivano percentuali minime ai paesi produttori di petrolio lui dice 50 per cento a voi 50 per cento a noi ma non solo vi formerò i tecnici c'è sarà un accordo paritario la cosiddetta formula mattei è un con un ampio concetto culturale di formazione anche di strutturazione giuridica che viene data a questi paesi e in cui poi questi paesi partecipano a dei piani di formazione alla costruzione di dei corpi ingegneristici importantissimi per il nostro paese che poi la storia di aziende della galassia eni o ex galassia eni perché ci sono state delle separazioni che sono ancora in mezzo a noi come snam saipem quindi la formula mattei va intesa in questo ampio significato culturale geopolitico poi certo ci sono anche gli aspetti finanziari ora mattei io non direi non mitizziamolo perché appunto va mitizzato è apprezzato con una certa sacralità ma per esempio la capacità di strutturazione competenza finanziaria era l'ultima cosa che gli interessava questo lo dobbiamo riconoscere quindi ci sono anche degli aspetti debitori che hanno caratterizzato la storia soprattutto l'ultima parte della storia del del leni di mattei quindi questi questi elementi ci sono poi ci sono questi attriti con gli stati uniti incarnati dalla temibile ambasciatrice clare bot lius la la moglie del del di henry lius colui che ha coniato la formula del secolo americano e mattei non è ben visto da da questa persona ma in realtà non bisogna nemmeno esagerare con america in tutta la vita america lo accusano anche di essere comunista addirittura perché ribadiamo siamo nell'epoca ormai della guerra fredda che è cominciata l'italia è un paese di confine no tra i due blocchi al proprio interno ha un partito comunista molto forte ancora legato a mosca e quindi qui è questa anche un'altra grande diciamo colpo di mattei e della politica dell'epoca e cioè riuscire a tenere un margine di manovra rispetto agli stati uniti più ampio rispetto ad altri alleati altri alleati dell'alleanza atlantica ma altre anche alleati dei saliti proprio il nostro essere frontiera fa sì che molti politici dell'epoca ma in particolare mattei sfrutterà al massimo questo margine di manovra di libertà tra virgolette che viene dato gioca senz'altro su questo va in unione sovietica per siglare degli accordi va anche in cina e il c'è tutta una vicenda a cui collaborano anche di apertura che caratterizza l'italia dove non c'è solo mattei ci sono per esempio per la cina una figura straordinaria fu quella di dino gentili che era fortemente legato a nenni e ai socialisti e l'unione sovietica è importante per mattei è importante anche per la fiat per esempio quindi c'è questa capacità di essere di confine quello che vorrei sottolineare è che la il conflitto con gli stati uniti poi non è una rottura totale da questo punto di vista una delle testimonianze più belle è quella di un alleato di mattei che al contrario di mattei era invece una figura insomma intimamente intellettuale uno dei più grandi intellettuali italiani il banchiere umanista raffaele mattioli che nel 57 se non sbaglio scrive a rockefeller una sentitissima lettera dicendo voi americani dovete capire che con questa persona dovete scendere a patti è possibile scendere a patti a un disegno che non sarà totalmente contraddittorio rispetto rispetto agli accordi tra i nostri paesi quindi c'è anche poi negli ultimi anni della vita di mattei su questo ci sono le ricerche storiche per esempio di maugeri che una anche lui una persona morta prematuramente ma che è stato importante sia sul piano storiografico che poi sul piano dello studio degli idrocarburi e del futuro dell'energia che ha messo in luce attraverso documenti ufficiali statunitensi la complessità di questo rapporto in fondo la grande complessità dei rapporti di enrico mattei e poi le interrogazioni su cui non ci soffermiamo sul suo attentato nel 1962 e la sua morte riguardano poi questi poli molto rilevanti gli stati uniti e la francia senza altro però prima di passare stati uniti e francia un attimo abbiamo visto alle nostre spalle il logo del cane a sei zampe no questo secondo me è importante perché noi abbiamo raccontato di mattei come politico come imprenditore abbiamo detto come umanista come uomo anche tecnologico appassionato di tecnologie di ricerca no quindi lui svilupperà tutto una in italia da prima di tutto lavoro a tante persone e nel campo della ricerca ma anche negli accordi con gli altri paesi e qui è un tipico esempio per creare questo 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 logo questa immagine che poi è diventata famosissima del cane a sei zampe che in quel momento doveva pubblicizzare la benzina supercorte maggiore viene indetto un concorso nella commissione selezionale dice ci sono i più grandi artisti ma non solo anche gioponti anche un uomo di design come gioponti dell'epoca l'autore non firmerà con il proprio nome perché un po si vergogna è uno scultore no e poi lo slogan anche quello famoso no coniato da ettore ettore scola con il cane a sé zampe no per fedele amico dell'uomo a quattro ruote no che ovviamente uno slogan è rimasto famoso però anche per dire anche nella scelta di un logo di un'immagine parliamo di una persona innovativa di qualità di alto che ha un'ambizione una visione diversa dagli altri si parliamo io direi di una stagione innovativa straordinaria perché il quel mondo del miracolo italiano è il mondo di enrico mattei ma è il mondo di adriano olivetti è il mondo forse la figura che tiene insieme tutti questi mondi è leonardo sinisgalli il cosiddetto poeta delle due muse un lucano che ha animato le più grandi riviste e le più grandi iniziative culturali di tutta l'epoca prima alla pirelli poi il suo capolavoro è la rivista civiltà delle macchine all'interno di film meccanica il sicuramente la rivista più bella mai fatta in italia con delle copertine straordinarie gli scrittori ma lì ma si è scritto e gli scrittori che parlavano che parlavano delle delle fabbriche sì noi abbiamo la nostra laura canali che è un po l'erede della di questa parte di design cultura sono elementi fondanti per la grande capacità industriale la grande organizzazione industriale queste persone non pensano mai che debbano essere separati questi ambiti sarebbe un elemento di impoverimento e quindi questa grande capacità italiana nell'ambito del design e degli aspetti culturali viene viene portata avanti viene naturalmente finanziata c'è una mobilitazione molto rilevante anche da questo anche da questo punto di vista quindi lui come dire è la sinisgalli passa anche per leni peraltro è l'anima di questo miracolo economico italiano perché fin dal primo mentano d'otto in lombardia riesce a far ottenere alle aziende italiane energia a basso costo lo continuerà a fare no grazie a questi accordi petroliferi dove riuscirà sempre a ottenere di ottimi prezzi anche quando tu citavi quando gli stati uniti ci sarà un riavvicinamento con kennedy kennedy alla fine contro l'accordo che aveva fatto mattei con l'unione sovietica offrirà del greco singerà le sette sorelle a dare il greggio a basso costo a mattei all'italia pur di convincerlo no a tornare sui suoi passi quindi c'è un mattei che fa l'interesse dell'industria italiana garantendo energia a basso costo però è anche un mattei appunto che dove l'umanesimo ma anche la tecnologia sono unite nella capacità imprenditoriale proprio la caratteristica del miracolo economico italiano che sicuramente gode di quel vantaggio che avemmo no in quel periodo come abbiamo detto nel quadro geopolitico però anche la capacità di queste persone di unire questi aspetti diversi sì e poi di far funzionare le cose nell'ambito interno e io sono certo che se mattei fosse ancora tra noi la cosa che gli darebbe più fastidio in assoluto sarebbe il ritardo italiano nella realizzazione delle infrastrutture lui insomma faceva otteneva autorizzazioni diciamo come si possono chiamare quelle dell'epoca in pochissimo tempo procedeva allo stesso lavorava di notte naturalmente era ossessionato dall'idea di realizzare le cose e di fare le cose poi era meravigoloso controllava gli distributori di benzina andava lui a fare benzina incognito per vedere come si comportavano e faceva rapporto sì beh questo questo c'è in tante grandi figure d'impresa lì sono molto belli in imprese di altro livello c'è la famosa leggenda di michele ferrero che va a vedere i cioccolatini nei vari supermercati i grandi uomini d'impresa questa cosa la fanno sempre allora dobbiamo sbrigarci quindi abbiamo parlato di questi vari aspetti dell'uomo sul piano geopolitico abbiamo detto il 56 anno chiave Suez Francia e Gran Bretagna scoprono di non essere più le grandi potenze di prima della seconda guerra mondiale Nasseri in Egitto nazionalizza il mondo cambia e Mattei appunto ne approfitta i suoi campi d'azione sono in particolare appunto abbiamo detto Tunisia Algeria e qui lui sostiene ovviamente il movimento algerino contro la Francia e lui quindi si era già fatto nemico diciamo gli americani attraverso le sette cinque delle sette sorelle americane in questo caso entra in contrasto con la Francia no perché lui diventa un sostenitore della della del movimento della liberazione algerino sì ne è un grandissimo sostenitore poi gli storici insomma ci aiutano a trovare gli aspetti di sostegno finanziario di sostegno degli armamenti ma anche da questo punto di vista io ritengo particolarmente rilevante il sostegno tecnico e legale che viene dato da Mattei cioè Mattei aiuta anche dal punto di vista legale con i suoi tecnici peraltro grandissimi giuristi passano per passano per l'eni l'esempio più noto è Sabino Cassese che tutti conosciamo in gioventù è stato al legale dell'eni parliamo degli anni 50 e allora c'è un'assistenza da parte del mondo di Mattei negli stessi negoziati degli accordi di Evian con la Francia poi Mattei recluta un giornalista molto brillante comunista Mario Pirani che l'ha raccontato nella sua insomma collaboratore di Repubblica e del gruppo una grande colonna l'ha raccontato nella sua autobiografia poteva andare peggio con un capitoletto dal titolo da Lenin a Lenin quindi prende Pirani e lo porta in Tunisia come suo ambasciatore presso l'Algeria quindi Pirani è una sorta di agente sostanzialmente che opera in questo schema molto importante molto rilevante per questo devo dire che gli algerini sono da sempre grati a Enrico Mattei lo venerano come uno dei padri della loro indipendenza la nipote di Enrico Mattei ha a Mattelica un museo e i rappresentanti dell'Algeria hanno scritto a lei delle lettere insomma in cui sottolineano questo aspetto le ricordo anche in un articolo sull'IMES e da questo punto di vista Mattei riceve delle minacce di morte da parte dell'organizzazione dell'Armée Secre l'organizzazione diciamo paramilitare francese quelli che saranno i nemici di De Gaulle che invece risolve in modo drammatico la questione algerina nel suo paese e rappresentano diciamo il revancismo nei confronti dell'indipendenza che sta arrivando quindi sicuramente in quegli ambienti Mattei ha tantissimi nemici anche se poi come sottolinea lo stesso Pirani l'esito vede la prevalenza della visione di coloro che volevano giungere a un accordo positivo anche se poi i progetti energetici relativi all'Algeria avranno vari ritardi e vicende piuttosto complicate comunque credo che sia un momento veramente importante di questi ultimi anni di Mattei mentre vediamo una foto che ci ha portato con appunto il logo dell'Agip poi la scritta araba proprio per l'espansione quindi lui Algeria Tunisia, grandi rapporti con l'Egitto, il Medio Oriente l'Africa comunque ha un suo grande interesse, voleva andare in Mali per esempio aveva una grande passione da questo punto quindi l'ambizione diciamo è anche una visione molto aperta però è accennato nel 60 fa l'accordo con l'Unione Sovietica per il greggio dell'Unione Sovietica aprendo poi la strada a quello che sarà il metano e il greggio e i drogaburi dalla Russia saranno poi un elemento fondamentale anche della storia successiva e in questo sfrutterà anche la forza del Partito Comunista Italiano e del suo rapporto personale con l'ongo dell'epoca quindi insomma lui si fa tanti nemici e nel 1962 l'aereo su cui sta viaggiando precipita probabilmente quasi sicuramente esplode in volo quasi sicuramente con una bomba se usate mille inchieste giornalistiche anche sulla vicenda ovviamente non si è arrivati al momento insomma i mandanti dell'omicidio Mattei perché di omicidio Mattei penso si possa parlare abbastanza tranquillamente sono ancora sconosciuti sappiamo che aveva tanti amici sono state fatte tante ipotesi però non è diciamo il tema principale di questa trasmissione indagare sulla morte io ricordo comunque il bellissimo film il caso Mattei di Francesco Rosi con Gian Maria Volontè che no, dieci anni dopo la morte se non sbaglio nel 72 nel 72 e peraltro accompagnato anche questo in un tributo al nostro gruppo possiamo dirlo da un libretto oggi quasi introvabile dello stesso Rosi con i testi di Eugenio Scalfari allora però entriamo nel tema appunto entriamo nella fase conclusiva della trasmissione il tema quindi è il miracolo economico italiano e lui è un protagonista di quel miracolo economico degli anni degli anni 50-60 oggi il tessuto industriale del paese si è molto ridimensionato per la crisi degli ultimi anni però è anche vero che il quadro geopolitico anche proprio in questa regione in cui agiva diciamo Mattei cioè il Mediterraneo e il Medio Oriente è in continua evoluzione e in cambiamento per esempio in Libia con la guerra che c'è stata e l'arrivo di russi e turchi è stata sicuramente un'opportunità mancata per l'Italia oggi se fosse stato un Mattei probabilmente l'Italia non avrebbe dimenticato la Libia ecco di quel tessuto industriale creato durante il miracolo economico italiano che cosa rimane e quali sono le opportunità che questo secondo te questo tessuto industriale può avere oggi nel nuovo quadro internazionale? Beh è un tema importante anche molto complesso direi che una grande questione riguarda la polverizzazione del nostro tessuto di grandi imprese l'Italia ha fatto una grande scommessa sulle piccole imprese ma in realtà ci sono tantissime micro imprese nel nostro tessuto mentre per competere nel mondo la grande impresa ti serve diciamo gli attori geopolitici del mondo sono le grandi imprese non sono le micro imprese senz'altro quindi l'Italia ha necessità di avere delle grandi imprese quindi di far fare dei salti dimensionali in particolare alle sue medie imprese esportatrici che sono state comunque un importantissimo elemento di tenuta nell'ultimo decennio del nostro tessuto penso a comparti come quello farmaceutico della robotica industriale, della meccanica e della componentistica avanzata ma il problema è che senza un tessuto e un sistema di grandi imprese tu non puoi essere presente nel mondo quindi c'è questo problema secondo problema sono i salti tecnologici quindi essere protagonisti su questo ha scritto delle cose molto belle il nostro compianto amico Alessandro Panza collaboratore di Limes e grande manager l'Italia è stata protagonista di alcuni di quei salti tecnologici degli anni 50 e 60 di cui abbiamo parlato ha perso altri salti di grande rilievo come quelli che riguardano l'information technology con il ridimensionamento delle telecomunicazioni del nostro paese l'incapacità di costruire degli attori importanti sui servizi digitali adesso viviamo in un contesto di grandi salti quelli che riguardano la transizione ecologica la transizione digitale anche all'interno di questi salti tu devi avere delle capacità industriali rilevanti altrimenti il tuo tessuto tende a impoverirsi terzo e ultimo punto riguarda e anche qui possiamo guardare un aspetto di Mattei la tua capacità interna in termini di sostegno del tuo mercato interno naturalmente da questo punto di vista il problema strutturale italiano riguarda i divari territoriali il divario nord-sud ma sempre di più anche i divari tra aree urbane e aree interne e la capacità di dare alle nostre imprese un mercato interno in cui possano operare da questo punto di vista dobbiamo vedere criticamente per esempio il percorso delle imprese di costruzione le nostre imprese di costruzione nel Mediterraneo ci sono sostanzialmente Turchia, Golfo, Nord Africa laddove esiste un po' di stabilità però hanno enormi difficoltà di mercato nel contesto italiano appunto per questo nostro sistema autorizzativo e di realizzazione degli investimenti che semplicemente non è sostenibile in questi primi anni del decennio sarà ancora di più un fardello e un problema quindi noi dobbiamo agire su tutti e tre questi aspetti se vogliamo non recuperare i tassi di crescita del miracolo italiano questo bisogna essere chiari è tecnicamente impossibile era possibile per un paese agricolo che diventa un paese industriale in quel contesto geopolitico degli anni 50 certo è stato possibile anche grazie ad alcuni degli uomini migliori della storia d'Italia diciamo della millenaria storia d'Italia anche però se trasportiamo insomma a Menichella, Macchioli, Mattei oggi non possiamo ottenere il 5% di crescita annua però dobbiamo senz'altro uscire dai tassi di crescita e di benessere impantanati dell'Italia del post guerra fredda quindi bisogna agire con consapevolezza su tutti e tre quegli aspetti che abbiamo sottolineato e quindi senza dimenticare il patrimonio appunto umano chi sa tra i tanti giovani che studiano ancora in un sistema nostro scolastico universitario di un certo livello vanno all'estero in questa fase molti vanno all'estero magari chi sa se nasceranno dei nuovi Mattei in questa nuova generazione d'Italia e quindi niente finiamo qui ormai il nostro tempo è finito Alessandro è stato un piacere e io vi do appuntamento alle prossime trasmissioni alle prossime puntate di Mappamundi e mi invito a iscrivervi al canale YouTube di Limes anche cliccando sulla campanella in maniera tale da ricevere notifiche ancora grazie Alessandro e alla prossima puntata grazie a te grazie a te